Cos'abbiamo di buono questa sera? Cosa c'è di buono? Polpette di Bavaria. Peccato tu non puole mangiare. Quattro tipi di carne, prosciutto, formaggio, uova. Si scioglie nella bocca. Un bocone, un poppetto. Un poppetto, un bicchiere di vi... divino del re. Della valle di Reno. Vino di Bavaria. Vieni qui. Prendi qui. Tu mangiare. No, no, no. Tu mangiare. I fermieri, i fermieri, lui mangiare. Lui mangia tutto, lui mangia.